Ci sono squadre ricche e ci sono squadre povere. Poi ci sono 20 metri di merda. Poi ci siamo noi. Benvenuto a Oakland. Il mio lavoro è portare questa squadra al titolo. Mi servono più soldi. Non sfiderò libri paga da 120 milioni di dollari. Dobbiamo pensare in modo diverso. Lo scopo non deve essere comprare giocatori, lo scopo deve essere comprare vittorie. Ecco 25 giocatori sottovalutati da tutti. Un'isola dei giocattoli difettosi. Qui dentro c'è una squadra vincente che ci possiamo permettere. Chi è il ragazzo? Il ragazzo. È il nuovo vice GM. Dobbiamo smuovere le cose. Diglielo. Devo parlare? Quando punto il dito, sì. È la nuova direzione degli Oakland Athletics. Non si mette insieme una squadra con un computer. Adattarsi o crepare. Billy Bean sta cercando di reinventare un sistema, ma non sta funzionando. Pensi che perderai il lavoro? Cosa? Vado su internet ogni tanto. Non andare su internet. Non guardare la TV e non parlare con la gente. Tu ci credi in questa storia o no? Al cento per cento. Magari non sembrate una squadra vincente, ma lo siete. Quindi, giocate da vincenti. Stiamo facendo qualcosa di speciale e la città lo sente. Se vinciamo con questa squadra, cambieremo per sempre questo sport. Cavoli tuoi. Sto scherzando.